Delle spettatori di LucaniaTV.it, un cordiale saluto e buongiorno a tutti voi da Pino Carlo Magno. Oggi abbiamo un'intervista particolare ad una persona che noi spesso intervistiamo, però disturbarla a quest'ora in uno dei luoghi più belli di Lauria, l'eremo di Sant'Elia, dove c'è la cappella omonima, è una cosa che non è da tutti i giorni. Giuseppe Guerriero, il coordinatore del comitato Festa San Giacomo, è appunto là con le nostre telecamere, si gode la frescura attorno alla cappella di Sant'Elia, meta spesso anche di turisti di altri paesi e regioni, perché è da lì che vuole parlare e fare un bilancio del cammino di Santiago, che c'è stato tempo fa, e della festa di San Giacomo che si è svolta anche quest'anno con un buon successo, il 25 luglio scorso. Allora, innanzitutto, buongiorno e caro Giuseppe, ti chiedo una curiosità mia, qual è il motivo della richiesta delle nostre telecamere stamattina lì a Sant'Elia? Sì, buongiorno a tutti voi, come vedete potete notare quando il cameraman avrà la possibilità, siamo in un posto fantastico di laurea, dico io, suggestivo, uno dei più bei posti forse che abbiamo a livello di culto religioso nella nostra laurea. Niente, mi dicevi, oggi ci sono dei turisti che hanno chiamato, volevano fare questo percorso, mi sono reso disponibile e stiamo lavorando su una mappa, così avranno la possibilità nei prossimi giorni a giorni di far l'Andia da solo, anche se io credo che se ci attrezziamo bene una guida è sempre importante a far conoscere bene i nostri posti. Bene Giuseppe, sì infatti hai avuto una richiesta di alcuni turisti, ne parlavo io nell'introduzione, che vogliono visitare l'Eremo e questo non può fare altro che soddisfare tutti noi. Senti Giuseppe, facciamo un bilancio veloce, per i motivi, i tempi televisivi che abbiamo, su come è andato sia il cammino di Santiago e la festa del 25 luglio. La manifestazione quest'anno, come l'anno scorso, era a rischio, avevamo un po' di perplessità per portarla a termine, perché sappiamo quello che sta succedendo da un anno e mezzo a questa parte d'Italia, assembramenti, vaccini, non vaccini, tamboni, eravamo un po' preoccupati su questo, però la manifestazione è all'aperto, molto esterna, con un'ottima organizzazione, diciamo, è non solo quella di noi del comitato, degli amici di San Giacomo, anche chi ha collaborato intorno, a partire da voi della televisione, a partire dagli amici di sempre che fanno parte di una compagnia che è la compagnia del Leone, a partire dalla protezione civile, a partire dalla Croce Rossa che ci appoggia sempre, a partire anche i vigili che sono stati disponibili, insomma, tutte queste cose qua sono… e poi gli amici di sempre che ci sostengono in un modo straordinario, i punti di accoglienza, i punti di accoglienza che hanno ancora una volta il piacere loro di accogliere le persone che arrivano, hanno fatto uno sforzo in più, imbustando un po' il tutto, mettendolo veramente, rendendolo alla massima sicurezza. Purtroppo, devo dirlo, c'è stato qualcuno che proprio chi dovrebbe dare accoglienza o fare accoglienza, diciamo che ha fatto un po' di terrorismo mediatico sull'accoglienza dicendo a qualcuno che no, ma non fate buffet, non fate cose, mi dispiace di questo perché ci sono rimasti male chi lo doveva fare, ci è rimasto male, li vedevo mortificati, ma so che sono delle grandi persone, non è il buffet che è quello che ci porta a arrivare da loro, ma è la loro accoglienza quella che viene da dentro, che viene dal cuore e possono stare tranquilli perché hanno fatto una cosa straordinaria anche quest'anno. Ecco Giuseppe, infatti, questione buffet, noi sappiamo, noi abbiamo seguito spesso il cammino di Santiago negli anni passati e in ogni posto dove la comitiva si fermava c'era un bel buffet con i prodotti tipici locali, perché non è solo fatto di mangiare vive, naturalmente così bere e rinfrescare lo spirito con questi giorni di caldo che stiamo vivendo, però è anche promuovere, non volendo o volendo, i prodotti tipici locali, perché non dimentichiamo, gentili telespettatori, il cammino di Santiago porta, quel giorno che si svolge, la settimana prima della festa vera e propria, porta anche gente da altre regioni, quindi far conoscere anche persone di altre regioni i nostri prodotti tipici. Bloccarlo forse non è stata una bella idea, no? Sì, sì, questo, perché se avete potuto notare voi sicuramente, perché poi le vostre riprese sono molto dettagliate, precise, vedete il biscotto 8 di Lauria che è sempre presente su ogni tavolato, ha la famosa frisillina di Lauria, per dire due cose che sono dei prodotti nostri e che sono l'eccellenza del posto, per non parlare poi del pane di grano in qualche parte, o mustacciolo, o biscottino 8, o il biscotto nasprato fresco, sono quelle cose che veramente promuovono il territorio in tutti i sensi. È vero, è vero. Senti, ma a proposito di mangiare e bere, tu anche se ancora è molto presto e qua a Lauria centro già fa caldo, vedo che ti fai fotografare e fai questa intervista mentre mangi e bevi, che in quel bel posto che è anche alto, che è l'ermo di Sant'Elia, ci sta proprio bene. Insomma, poi vicino alla mattonella che rappresenta un po' la guida del percorso, ti invidio quasi Giuseppe. Il vino è un vino che faccio io, è personale, però per me è come fosse pubblico, perché è per gli amici, non è per me, perché ne bevo poco, non ne bevo molto, è per gli amici, per tutti gli amici che mi seguono. Poi, come potete vedere, il pane è frittato, vabbè, lo sappiamo e abbiamo l'esperienza anche del film del nostro Rocco Pavaleo che l'ha portato un po' all'apice dei prodotti lucani per eccellenza. Vedete una pietra qua con una mattonella straordinaria, qua c'è il lavoro di molte persone intorno, c'è il lavoro di Archè, di Mimma e Giustina che ogni anno ci regalano un'emozione, dico io, non una mattonella, c'era un'emozione con questi capolavori che fanno. Una pietra messa su questo punto con l'apporto di Giacomo Caino, di Antonio Lammoglia e ripeto sempre questi due, perché sono i due che poi fanno capo ad altre persone, ma c'è un gruppo dietro straordinario. E poi, veramente, devo dirlo, lo dice anche nell'intervista di apertura, l'amministrazione che oggi ha come se fosse svegliato su questo e ci crede in quello che stiamo facendo, infatti regalando a Lauria una segnaletica che viene fissa, resa disponibile sul sito del Comune, stanno aspettando a me per la mappa che la sto completando, ma a giorni gliela porterò e quindi diciamo che è partito, io non dico che è arrivato, ma è partito, adesso è partito come forse volevamo tutti quanti e spero che per Lauria, per la zona, per la nostra zona sia un punto di partenza per un futuro più roseo. Senti Giuseppe, buon appetito e buon vino della tua produzione, torniamo al cammino in generale adesso, sappiamo che ci sono dei camminatori che arrivano là all'eremo in maniera autonoma, chi ha bisogno per esempio di sapere bene il percorso e appunto di essere guidato, chi può contattare? Diamo questa risposta tecnica. Si possono rivolgere a noi, possono andare sul sito del Comune, troveranno la mappa, quindi se la possono scaricare e se la guardano. E il piacere mio, che ancora forse non ne ho parlato neanche con l'amministrazione, possiamo rendere una mappa cartacea fissa in Piazza San Giacomo dove uno visita la chiesa, guarda, vede che c'è questa mappa e poi da là si può scaricare l'app dal Comune e si può fare il giro. La speranza mia, già ne ho parlato con qualcuno, anche con Don Franco, lo dico liberamente, non so poi l'altro nostro parroco di Superiore che finché ci sarà o poi chi arriverà nuovo, di poter restare, di far restare, cercare di tenere le cappelle aperte. La cosa che mi rammarica un po' di più è che molto spesso camminiamo, tranne un paio di chiese, abbiamo 14-15 sul cammino, sono 14-15 luoghi di culto, però purtroppo due o tre sono aperte, gli altri restano tutti chiusi. Capisco le esigenze perché ci vuole, però forse se riusciremmo a tenere l'aperta almeno in alcune ore del giorno sarebbe una cosa fantastica e sarebbe un afflusso turistico molto più elevato. Certo, senti parliamo velocemente di un'altra cosa Giuseppe che attesta molto a cuore, il gemellaggio con Santiago di Compostela, che mi dici? Sì, la confrateria di Santiago di Compostela, è tutto in stand by, sempre per il problema della pandemia, è tutto in stand by, ci sentiamo ogni tanto, anche Santiago di Compostela purtroppo ha calato molto le presenze perché non trovi tutti gli alloggi disponibili, sa, là è un via vai continuo, quindi sanificare ogni 5 minuti, ogni 10 minuti, ogni giorno tutto un intero stabile non è facile. Speriamo che finisce tutto e continueremo in quel progetto che abbiamo insieme a loro, che loro vedono una potenziale, una grande potenzialità, la parrocchia sin Giacomo a Lauria e Lauria, con il fatto del privilegio che sappiamo, ne abbiamo parlato sempre, che abbiamo questo privilegio che l'abbiamo, non è solo la domenica, quando capita di domenica, ma è tutti gli anni, siamo arrivati a questa conclusione, ma è quello che è scritto sulle carte, ogni anno noi abbiamo questo privilegio che pochi in Italia ce l'hanno, quindi è una cosa straordinaria, è di un valore aggiuntivo straordinario. Ok, Sergio, un'ultima domanda Giuseppe e poi ti lasciamo a questi turisti che ti hanno condattato e a continuare a fare colazione. Allora, Eremo di Sant'Elia, Beato Lentini, insomma, c'è tanto da valorizzare per il nostro territorio, soprattutto il turismo religioso. Sì, io questo vi ringrazio che siete venuti qua oggi a prendermi in questo punto, perché è uno dei punti, lo ripeto, perché dicevo uno dei punti più belli e più suggesti di Lauria, proprio perché c'è un percorso davanti a me che fa tutto il costone dell'armo e arriva alla Madonna Assunta e arriva alla cappella, alla casa del Beato Lentini. Lui veniva qua a pregare, veniva qua spesso e facendo questo percorso. È un percorso che vorremmo riprendere un domani e renderlo disponibile per raggiungere con più facilità i posti che abbiamo detto che Madonna Assunta, Castello Ruggero e casa del Beato Lentini. Bene, bene. Grazie, grazie Giuseppe, è sempre disponibile e ti ringraziamo di cuore. Io ti lascio alla tua bella colazione con questa bell'aria fresca che c'è al Sant'Elia. Io mi accontendo del caffettino, visto che ancora è presto. Ci risentiamo sicuramente per le prossime occasioni. Buona giornata, buona giornata Giuseppe e buona giornata anche a voi gentili telespettatori. Grazie di averci seguito in questa chiacchierata molto tranquilla sul bilancio e il turismo religioso che passa anche per l'eremo di Sant'Elia, grazie al Comitato Festa San Giacomo e all'amministrazione comunale. Arrivederci. Grazie a voi, un abbraccio a tutti e in bocca al lupo.